Siamo nei pressi della foce dell'Arzilla, tra un ambiente naturale ed un altro fortemente antropizzato. Qui ha inizio un percorso che conduce i bagnanti presso gli stabilimenti balneari che sono lungo la costa. Però qui c'è un problema di carattere urbanistico, ma soprattutto un problema di viabilità. Ne parliamo con Claudio Razzi, vicepresidente di Lupus in Fabula. Allora sì, oggi è una giornata molto tranquilla, diciamo che non c'è quasi nessuno, ma qui il sabato e la domenica è un delirio. Come vedete, alle mie spalle è quella che sembra una pista ciclabile, che ha tutte le caratteristiche di pista ciclabile. Infatti è regolamentata e pianificata, quindi nel piano regolatore delle piste ciclabili, come pista ciclabile. Però, come vedete, non c'è nessun cartello che indica questa cosa. E quindi di fatto cosa succede? Che in questo tratto, in questo percorso, entrano tutti. Entrano moto, motorini, quad, biciclette, tutti insieme e anche auto. Le auto non entrano solo per lo scarico-scarico, ma entrano e parcheggiano in fondo. Quindi questa è una situazione insostenibile, secondo me, che riguarda anche fortemente un discorso di sicurezza. Ecco, una moto passa proprio in questo momento. A Fano, quella che si chiama Fano, città dei bambini, la sicurezza dovrebbe essere una priorità. Non credo che una cosa simile ci sia in altre zone qui vicino a noi. Pesaro ha una pista ciclabile fatta in questo modo, dove da una parte c'è la ferrovia e dall'altra parte c'è. Ci sono stabilimenti balneari, eppure non ho mai visto motorini, non ho mai visto macchine che la percorrono, salvo saltuariamente i furgoncini che devono fare il carico-scarico, che arrivano e poi vanno via. Questa è una situazione assolutamente anomala. Credo che l'amministrazione comunale debba porre rimedio. Mi appello anche alle associazioni che difendono i ciclisti, in modo particolare i forbici. Credo che anche loro si debbano impegnare per risolvere questa situazione.